Amore! Dimmi! Ma prima che andassimo a Cambrai, tu avevi mai sentito nominare questa città? No, direi proprio di no. Niente? La Lega di Cambrai? Il nulla? Dovrebbe essere una reminiscenza di scuola? Se è così, io durante le lezioni di storia sicuramente dormivo. Anch'io dormivo in muro, però dai, la Lega di Cambrai, è facile. Un sacco di gente si è trovata a Cambrai per decidere tutti insieme che i veneziani erano stronzi. No? Cioè, non che c'entri poi con la città di Cambrai, però il nome. Ma se non c'entra con la città che abbiamo visitato, perché me lo stai dicendo? Per ribadire che a scuola hai un somaro. Ah, ma questo io lo sapevo già. Anch'io sei il mio somaro. Cambrai nel Medioevo era un principato ecclesiastico governato da un vescovo che faceva parte del Sacro Romano Impero. Era una città molto ricca perché qui si producevano tessuti di lana e di lino, oltre alla Battista, che ancora oggi in inglese si chiama Cambric, perché provieniva da qui. Come ogni città ricca e di confine, tutti la volevano. Ma nessuno ce la fece fino all'arrivo di quel buon tempone del Re Sole, che quando si incaponiva su qualcosa, insisteva e insisteva fino a quando non riusciva ad ottenerlo. Cambrai divenne così territorio francese nel 1677 e il Re, in tutta la sua benevolenza, appioppò il vescovado della città a tale Fenelon. Questo tizio era il precettore del nipote del Re e per istruire il ragazzo aveva scritto un libro intitolato Le avventure di Telemaco, dove il giovane protagonista viaggiava per il mondo insieme al suo saggio precettore, di nome Mentore. Purtroppo il parental control non esisteva ancora e il Re forse non aveva controllato bene quello che il Feneloni insegnava al nipote. Ma ad un certo punto il suo libro fu pubblicato e una coppia finì in mano a Luigi XIV che lesse Tutti gli uomini, compreso Re, che sono io, sono uguali per natura. Oibo, in che senso? Come fa a essere giusto se lo stato sono io? Garçon, garçon, ma chi ha scritto queste fesserie? Da un giorno all'altro, prevedibilmente, il Fenelon si trovò senza lavoro e dovette ritirarsi a Cambrai, dove fece il possibile per rendere migliore la vita dei suoi concittadini, arrivando perfino a privarsi di tutto per sfamare l'esercito accampato in città durante la carestia del 1709. Alla sua morte, oramai soprannominato il Cigno di Cambrai, fu sepolto nella chiesa di Nostra Signora della Grazia E a tutt'oggi, per indicare un tutore o un saggio consigliere, continuiamo a utilizzare Mentore. Dopo il Re Sole, però, arrivò il tempo della Rivoluzione Francese, che tentò, in ogni modo, di distruggere i simboli del potere ecclesiastico. E come fece? Ti faccio un esempio. Se ti dico Rams o Chartres, a cosa pensi? Ti direi che penso alle cattedrali, no? E se dico Cambrai? Esatto, il punto è proprio quello. Fino alla Rivoluzione, a Cambrai sorgeva la grande cattedrale di Notre Dame, che con la sua guglia gotica traforata e alta ben 114 metri, era detta anche la meraviglia dei Paesi Bassi. Fu smantellata completamente e le sue pietre furono vendute come materiale da costruzione. Altre chiese della città, come quella di Nostra Signora della Grazia, dove è sepolto Finelon, si salvarono solo perché venne data la precedenza a smantellare quell'enorme pezzo di storia, mentre altre, come la Cappella dei Gesuiti, della quale abbiamo un video dedicato sul canale, divennero templi della ragione. Purtroppo, l'accanimento distruttivo sulla città di Cambrai non si limitò ai danni riportati durante la Rivoluzione Francese, perché poi arrivò la Prima Guerra Mondiale e questa città fu il primo luogo al mondo dove avvenne un combattimento tra carri armati. Molta parte del centro fu distrutta, ma il Befrois si salvò. Per chi non lo sapesse, il Befrois è una torre campanaria che simboleggia il potere della città. Molti dei Befrois che potete vedere tra Belgio e Francia, come questo, sono protetti dal UNESCO. Nel 1400 il Befrois di Cambrai era attaccato alla chiesa di San Martino e veniva presidiato da due tizi chiamati Gallus che suonavano le campane. I Gallus vivevano sulla torre e lì non c'era mica il bagno, così loro la facevano giù dal campanile. Il paroco di San Martino, stanco di avere sempre il tetto che puzzava ma non di viole, fece un esposto al comune e da allora è vietato, per legge cittadina, farla fuori dal campanile. Noi vi abbiamo avvisati, non si sa mai che vi prendiate una multa. Anche se il Befrois si salvò dai combattimenti della prima guerra mondiale, questo non impedì ai soldati tedeschi in ritirata di rubarsi la campana per fonderla. Questa campana però fu doppiamente miracolata, perché quando fu smontata per essere portata via la fecero cadere direttamente dalla torre e questa non si ruppe. Si vede però che andare in viaggio le aveva fatto passare la voglia di lavorare e così il caso volle che un Bengala, sparato durante i festeggiamenti del 15 agosto di quell'anno, mandasse in fiamme la torre. Si tentò per tutta la notte di spegnere l'incendio, ma i getti d'acqua dei vigili del fuoco non arrivavano così in alto e il giorno dopo i sostegni della campana cedettero e questa si schiantò a terra, crepandosi. I tedeschi in ritirata però non avevano rapito solo la campana del Befrois, ma anche tutto quello che poteva essere fuso, compresi Martino e Marton. Martino e Marton sono due automi meccanici che rappresentano i giganti protettori della città e si trovano sulla sommità della torre dell'Hotel de Ville e fortunatamente furono restituiti intatti alla fine della guerra. Narra la leggenda che in una battaglia avessero colpito il comandante nemico in testa con i loro martelli, lasciandolo stordito e accecato perché l'elmo gli era sceso sugli occhi e questi dovette dichiarare la resa. Un'altra leggenda narra che un moro si fosse innamorato di una giovane di Cambrai di nome Martin, ma siccome erano di religioni diverse, entrambi furono condannati a suonare le campane con un pesante martello. Un prete che li vide, mosso a pietà, fece costruire due automi per sostituire gli sfortunati giovani e una volta libero il moro si fece battezzare con il nome di Marton e sposò la sua Martin. Per concludere questo giro della città non possiamo non nominare le bêtises de Cambrai, delle caramelle dure che sembrano davvero quelle che mia nonna teneva nella borsetta da distribuire a noi nipoti. Come riportato sulla scatola di caramelle che ci è stata regalata a Cambrai, due secoli fa il giovane Emile Affchant era prendista presso la pasticceria dei suoi genitori. Un giorno Emile fece casino con la cottura del caramello e sua madre, piuttosto incazzata, lo redarguì dicendogli Emile, sei un buono nulla, non fai altro che pasticci. Quel caramello troppo duro però si vendette benissimo e si continua a vendere ancora oggi. Ed è per questo che le caramelle di Cambrai sono chiamate appunto bêtises, che in francese significa pasticci. Queste caramelle sono così buone che anche Asterix e Obelix, nel loro giro della gaglia, sono andati fino a Cambrai per poterle mangiare. E oggi, in giro per la città, potete trovare diverse installazioni a forma di caramella, che sono state recentemente inaugurate proprio per celebrare questa gloria locale. Ma io ho un dubbio. Dimmi. Ma solo a me, Martino e Morton, che suonano le campane, fanno venire in mente... Fra Martino e Campanaro? Sì, solo a te. Dai, al massimo li puoi paragonare ai mori di Venezia. Ma no, c'è Martino, Marta, Martino, Campanaro. Che accostamento bislacco. Detto questo, è proprio giunto il momento di chiudere. Vi ricordiamo che Cambrai fa parte dell'itinerario nerd che è uscito sul canale qualche settimana fa e che se avete perso vi lascio qui la scheda in alto. Mentre, qui sotto in descrizione, trovate il link al blog in cui potete trovare il PDF dell'itinerario, quello più completo, scaricabile gratuitamente. Detto questo, le solite raccomandazioni. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi e se vi rimane un po' di tempo, date un'occhiata al nostro blog e a tutti i social. Ciao! Io non sono bislacca. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.